La Procura dell'Aquila è scritto nel registro degli indagati 10 persone tra medici, dirigenti e un legale nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti gonfiati per la fornitura di protesi e materiale ortopedico all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Oltre al direttore generale dell'ASL numero 1 Avezzano sul Mona l'Aquila Giancarlo Silberi raggiunto un giorno fa da un avviso di garanzia, figura nel registro degli indagati il suo predecessore l'ex manager dell'ASL 1 Roberto Marzetti. Insieme al direttore amministrativo dell'azienda Paolo Gentile, la direttrice dell'ufficio beni e consumo Franca Milani, il primario di ortopedia del nosocomio aquilano Stefano Flamini, un altro medico Filippo Fiori e i membri della commissione di gara Alexander Di Francesco, Carla Pasqua e Massimo Pezzopane. Nell'elenco anche il dirigente del settore avvocatura del Comune dell'Aquila in convenzione con l'ASL Domenico De Nardis che avrebbe espresso parere favorevole alle modalità con cui si è svolta la gara. Stamane nel corso dell'inaugurazione dei nuovi reparti all'ospedale San Salvatore il presidente della regione, nonché commissario straordinario ad acta della sanità abruzzese Gianni Chiodi si è espresso così. I direttori generali dell'ASL abruzzesi hanno vissuto un periodo di guerra perché la barca della sanità stava affondando, bersagliati da attacchi provenienti da sistemi di potere interessati a logiche di profitto e non di interesse per la collettività. I direttori generali in Abruzzo hanno dovuto combattere quasi una guerra per migliorare, per cercare di mettere in equilibrio, per migliorare, cioè per fare una sanità a costi sostenibili per i cittadini e che fosse di qualità. E l'hanno fatta contro migliaia di interventi, di interessi che miravano invece a procrastinare il sistema di una volta, cioè il sistema che aveva fatto il buco della sanità e che ci aveva fatto vergognare nella conferenza delle regioni, ospedali a go-go, primari più che quelli in Emilia Romagna, situazioni nelle quali c'erano una serie di sprechi e privilegi. Abbiamo visto che ho dimostrato attraverso alcune gare i risparmi che sono stati ottenuti facendo semplicemente delle attività, che posso dire, di concentrazione degli acquisti, incredibili. Il direttore generale dell'ASL, Silveri, dopo aver illustrato le importantissime novità legate al nosocomio aquilano, che restituisce alla collettività tre nuovi reparti, più la prima UFA regionale, l'unità operativa di farmaci antiblastici, si dice soddisfatto per il risultato raggiunto e annuncia che quella in corso è forse la sua ultima conferenza stampa da direttore generale. E siamo a buon punto perché l'intero programma pensato che prevede la conclusione dei lavori del nostro ospedale 2013 per intero, accentrando qui a Coppito, tutte le attività sanitarie anche e anche amministrative che è lenti alla sanità, è assolutamente lì. Cerimonia di inaugurazione all'ospedale San Salvatore dell'Aquila con la riconsegna alla cittadinanza dei reparti di anatomia patologica, malattie infettive, obitorio, farmacia ospedaliera e UFA, la prima unità operativa regionale di farmaci antiblastici che consente l'automazione e l'informatizzazione delle attività inerenti alla composizione dei farmaci oncologici. Il giro dei reparti comincia dall'unità operativa di malattie infettive diretta dal dottor Alessandro Grimalti. Tra le principali novità la possibilità di isolare i pazienti immunoterapici e contagiosi e un sistema innovativo di ricircolo dell'aria. Quindi è un reparto abbastanza grande ma il vero punto forte di questo reparto che essendo stato ristrutturato ha un sistema qui che potrete anche vedere da fuori sul tetto, è un sistema di ricircolo dell'aria che permette di fare 16 circoli ora, quindi a livello di una sala operatoria di filtrare l'aria e ogni stanza ha un sistema di pressione positiva e negativa, quindi possiamo indifferentemente regolare la pressione sia in pressione positiva e negativa e questo ci permette di ricoverare sia pazienti altamente contagiosi sia pazienti immunodepressi come per esempio oncoematologici, trapiantati, reumatologici, AIDS e quindi ci dà un reparto che offre tutte le garanzie di sicurezza e permette di ricoverare anche pazienti con malattie gravi e difficili da trattare. Ristrutturati i locali della farmacia ospedaliera si è inaugurata l'attivazione dell'UFA, la prima unità regionale del centro Italia per la composizione di farmaci oncologici dove sono centralizzate tutte le preparazioni di camioterapici antiblastici per i reparti di oncologia, ematologia, pneumologia, urologia, dermatologia oncologica, oculistica all'interno della quale operano tre farmacisti e tre infermieri altamente specializzati. La responsabile del centro, la dottoressa Anna Maria Iacomini, direttrice della farmacia ospedaliera, mette in evidenza le caratteristiche dell'apparecchiatura che consente di abbattere il rischio nella preparazione del farmaco. Quindi si fanno queste preparazioni centralizzate naturalmente partendo dal protocollo dello specialista e validato dal farmacista. Poi tutti questi dati vengono trasferiti nella macchina che chiama attraverso un display luminoso tutti i componenti che servono a questa preparazione in ordine e quindi c'è il riconoscimento del flacone, del farmaco, il riconoscimento del visivo come immagine del flacone, poi c'è il riconoscimento delle dimensioni del flacone, poi c'è un controllo gravimetrico del flacone, si preleva poi il farmaco necessario alla preparazione e si rifà una seconda pesata. Quindi diciamo che c'è una sicurezza al 100% di quanto andiamo a dare al paziente. Quindi si abbatte anche il rischio che era legato alla composizione dei farmaci oncologici? Rischio altissimo perché, come ci ricorda spesso il Ministero della Sanità, questi sono farmaci che sono i maggiori che provocano un errore di terapia. C'è addirittura, sembra strano, ma c'è addirittura spessissimo uno scambio di farmaco e poi un errore nei dosaggi. Per il reparto di anatomia patologica, spiega il dottor Giuseppe Calvisi, direttore dell'unità operativa, la ristrutturazione è stata condotta dando seguito alle stanze dei medici. Tra le novità il sistema di interfono con la sala operatoria e la sala incisoria, l'unica in regione che permette di fare riscontri diagnostici con videoripresa. Un ambiente che sia a norma, con le porte di fuga. Abbiamo fatto una cosa splendida, quella di avere uno strumentario che ci verrà consegnato, quindi entro ottobre saremo operativi, che è anche questo nuovo. Noi avevamo lo strumentario, tal uno di questi era prima del 1993, quindi è abbastanza obsoleto. Ma la cosa buona è che abbiamo una comunicazione per fare gli esami estemporani con la sala operatoria, in modo tale che c'è un montacari che loro ci mandano sotto l'occorrente che serve e noi con un interfono possiamo comunicare direttamente col chirurgo, senza che si dovesse prendere il barattro, girare, scendere le scale. Una perdita di tempo incredibile sia anche per l'operatore. E quindi nostre problematiche, loro problematiche, ce le possiamo scambiare durante l'intervento. Quindi è una cosa molto a beneficio del paziente. Oltre a questo, visto e considerato che i riscontri autopsi ne fanno molto meno rispetto al passato, però adesso hanno delle grosse implicazioni anche di tipo medico-legale e particolarmente sono importanti nei soggetti che hanno patologia infettiva. Noi non eravamo assolutamente attrezzati per questo, ma non lo sono in gran parte delle regioni. Ci servono delle sale che siano particolari per il ricambio d'aria, per le aspirazioni, ma non solo, ma sono anche importantissime perché devono prendere tutti i liquidi che vanno da questa sala, vanno messi in dei contenitori, vanno sterilizzati prima di essere dismessi. Quindi noi abbiamo tutta un'attrezzatura elettronica che fa questo, con le aspirazioni, non solo, ma ci possono essere durante un intervento situazioni di medico-legale, per cui uno debba fermare l'autopsia. Per cui oggettivamente abbiamo una videoripresa e si può anche parlare per registrare, c'è una saletta dove viene registrato.